Assessore Biale, un concorso internazionale di oli da tutto il mondo, la produzione agricola si dimostra veicolo anche per il turismo? Certamente, soprattutto quando si tratta di questi prodotti che sono sicuro dimostreranno di essere tra i migliori del mondo. L'oliva taggiasca è in gara, partecipa insieme a tante olive da tutto il mondo, ma noi tifiamo un po' per lei, rimane il nostro fiore all'occhiello? Certo, assolutamente sì, è un prodotto apprezzato e conosciuto in tutto il mondo, anche per la sua duplice valenza, non solo come sfruttamento per l'olio ma anche come oliva da tavola, che anche per le sue proprietà organolettiche è spesso definito lo champagne dell'olio, quindi siamo sicuri che faremo una bellissima figura di fronte a tutto il mondo. A Sanremo un importante evento per mettere in mostra l'olio di tutto il mondo, ma un occhio di riguardo anche per il nostro, di che cosa si tratta? Si tratta di un concorso internazionale sulla scia di quelli che vengono fatti già in molti altri paesi all'estero e anche in Italia, con il quale vogliamo dare risalto alla nostra regione, portando qua appunto assaggiatori da tutto il mondo e produttori da tutto il mondo e in contemporanea vogliamo dare spazio e visibilità alle aziende produttrici della nostra regione Liguria. Come si svolge la gara? La gara si svolge nell'arco di tre giorni in cui i giudici assaggeranno tutti gli oli partecipanti, tutti i campioni che sono stati inviati dagli 11 paesi diversi che hanno deciso di iscrivere i propri campioni, in tre fasi, una prima fase di scrematura e di divisione in categorie diverse e una seconda fase di attribuzione di una valutazione in centesimi e una terza fase in cui nella finale, negli oli che avranno preso le votazioni più alte, verranno stabiliti i primi tre premi per ogni categoria.